In questo video vediamo come testare la velocità di scrittura di un dispositivo rimuovibile su Linux tramite terminale. Il primo comando da dare è lsblk per capire in quale punto di mount si trovi il nostro dispositivo rimuovibile. Nel mio caso è sdb perché sda, infatti qui vedete anche tutte le varie partizioni, è sempre l'hard disk o ssd interno. Quindi nel nostro caso il test deve essere eseguito su sdb1. Il comando da dare poi è questo qui e utilizzeremo hdparm da root. hdparm non sempre preinstallato, molte volte va installato ma pesa veramente molto poco. E avete anche una documentazione utilizzando il comando hdparm-h. E qui avete la documentazione se non lo sapete usare su come utilizzarlo ma il comando che vi ho dato io va più che bene. Con questo qui potete testare anche l'hard disk interno oppure una qualsiasi partizione dell'hard disk interno e quindi andiamo ad eseguire il test. Chiaramente essendo sudo dobbiamo dare la password di root, di amministratore. Ok, ciò che dovete guardare voi a parte questo qui che è un errore è questo qui, timing buffered disk res, appunto la velocità di scrittura che nel nostro caso appunto è 2,78 megabyte per secondo. Grazie a tutti.